Ciao a tutti amici delle stelle, benvenuti o ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo mensile di giugno 2024. Per tutti i nuovi naviganti che approdano per la prima volta su questo canale io mi presento, mi chiamo Simone, sono un astrologo o meglio un astro coach. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le novità in uscita. Mamma ragazzi come vola il tempo, siamo già a giugno, mamma mia. Va bene, ok, vediamo subito insieme quali sono gli aspetti più importanti che si formano nel cielo nel mese di giugno, che tipo di significato, cioè che cosa rappresenta giugno come appuntamento e momento astrologico, dopodiché ci concentriamo con le previsioni segno per segno. Ho due comunicazioni di servizio da darvi prima di incominciare. La prima è che mi sto organizzando con un'azienda che si occupa proprio della gestione delle chiamate, degli appuntamenti di lavoro. Pertanto in questo momento sono confermati gli appuntamenti che ho già fissato da solo e fintanto che non raggiungiamo una quadra sulla gestione del tutto, al momento le nuove richieste sono tutte in sospeso. Dopodiché vi darò delle comunicazioni di servizio, farò un video magari a parte o ve lo comunico all'inizio magari del prossimo video, di come cambierà la gestione degli appuntamenti, che cosa dovete fare per mettervi in contatto con me e prendere un appuntamento, perché ragazzi da solo non la faccio più o meglio farò sempre io i consulti personalizzati, ci sarò sempre io, ma per quanto riguarda la gestione, il flusso delle chiamate, le risposte, le mail eccetera eccetera, ho bisogno di aiuto e quindi datemi un attimo il tempo di regolare, di gestire questa cosa. L'altra comunicazione di servizio importante che vi voglio dare è che la settimana scorsa, domenica 26 maggio, è uscito uno speciale tutto dedicato al nuovo transito di Giove nel segno dei gemelli, un transito che ci farà compagnia per un anno e quindi diventa molto importante capire che tipo di situazioni porterà questo Giove, come utilizzare Giove, in quali mesi e magari tirare i remi in barca, se non lo avete ancora ascoltato vi lascio qua o qua sopra, non so dove va a destra e sinistra, il link per ascoltare il video dell'oroscopo di Giove nel segno dei gemelli. E quindi partiamo a bomba con il mensile di giugno 2024. Giugno è il mese che vede il passaggio di consegne tra la primavera che termina nel momento in cui il sole entrerà nel segno del cancro il giorno 20 giugno e quindi diventa un mese che è caratterizzato da una certa mutevolezza. Questa mutevolezza la vivremo soprattutto nei primi giorni, nelle prime due settimane del mese di giugno che ragazzi prepariamoci saranno molto caotiche, soprattutto per un transito che adesso vi spiego. Il passaggio di consegne tra la primavera e l'inizio dell'estate, anche se qua al nord dove sono io la primavera non è ancora arrivata, detto questo, ci porterà a modificare, ci porterà ad attivare delle cose nuove, ci porterà a sistemare progetti, a mettere a posto, a confrontarci con tutte quelle cose che possono rappresentare un ostacolo per lo sviluppo di questi progetti ma anche per la preparazione magari di un qualcosa che andrà in manifestazione verso la fine dell'estate. E i primi 15 giorni del mese, facciamo anche 17, sono davvero molto impegnativi dal punto di vista più che altro organizzativo e logistico. E questo perché? Perché il pianeta che governa i gemelli, cioè Mercurio, il giorno 3 giugno entrerà nel segno dei gemelli, tornerà a casa sua, incontrerà l'energia di Giove e li amplifica il tutto. E tutto quello che ha a che fare con le chiamate, la comunicazione, l'internet, tutto quello che ha a che fare con i mezzi di comunicazione, gli strumenti che utilizziamo magari anche al lavoro, rappresentano un po' il comune denominatore di questo Mercurio che entra nel segno dei gemelli e che incontra l'energia di Giove. Poi siccome questo Mercurio farà pochissimo nel segno dei gemelli e non dovete preoccuparvi se siete del segno dei gemelli perché Mercurio, ricordatevi che più è veloce in ogni segno zodiacale, più funziona. E quando, e semmai, è quando va in retrogradazione, quando fa i suoi anelli di sosta che ci porta a picchiare la capoccia sul muro. Ad ogni modo questo transito di Giove di Mercurio resterà nei gemelli dal 3 al 17 di giugno e nel mentre raggiungerà anche Venere che è nel segno dei gemelli e abbracciati insieme in una fusione, in una congiunzione, entreranno il giorno 16 Mercurio e Venere nel segno del Cancro, preparando così la strada al nuovo transito del Sole che entrerà nel segno del Cancro il giorno 20. Chi sono i protagonisti del mese di giugno? Beh, nella prima parte del mese di giugno vedremo transitare sul palcoscenico tutti i segni mobili e i segni d'aria connessi ai gemelli. I gemelli sono i festeggiati del momento, stanno facendo la propria ricarica solare, hanno Giove che è appena entrato e quindi sta cominciando a mandare in espansione delle cose, incomincia a creare delle situazioni anche nuove e i segni d'aria saranno i co-protagonisti del cielo di giugno insieme ai gemelli e quindi troviamo anche la bilancia e l'acquario. Poiché i gemelli rappresentano un segno mobile, cioè quei segni zodiacali che ci accompagnano alla fine di ogni stagione. Sul palcoscenico insieme a questi segni zodiacali troveremo anche delle comparse che dovranno fare un certo tipo di lavoro, sistemare delle cose, incominciare magari a pianificarne delle altre e con questo mercurio bisogna stare attenti a non intasarsi di roba. E troviamo quali segni? Il segno opposto dei gemelli, il sagittario e la vergine e i pesci che dovranno scendere in campo, organizzare, pianificare e ridistribuire meglio le cose per non intasarsi di roba da fare. Dopodiché quando il sole entrerà nel segno del cancro il 20 di giugno con il solstizio d'estate, il cancro riceve il sole e quindi diventa il protagonista numero uno del mese di giugno e poi ancora lo vedremo protagonista nel mese di luglio. Sendo un segno d'acqua il cancro porterà sul palcoscenico ti segni d'acqua e quindi troviamo i pesci e lo scorpione e poiché il cancro è un segno cardinale cioè rappresenta proprio il cambio della stagione porterà insieme a lui sul palcoscenico astrologico come comparse del momento i segni cardinali e quindi troviamo la riete, la bilancia e il capricorno che dovranno incominciare a fare un nuovo tipo di lavoro e adesso lo vediamo insieme. Prima di partire a bomba con le previsioni segno per segno facciamo la panoramica dall'alto del cielo, vediamo come sono configurati anche tutti gli altri pianeti all'interno della ruota zodiacale, dopodiché ci concentriamo con le previsioni segno per segno. Il sole in questo momento sta transitando nel segno dei gemelli, io faccio tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i gemellini in ascolto che si preparano a spegnere le candeline. Mercurio il giorno fino al giorno 3 giugno transita nel segno del toro e ha già dato parecchie problematiche questo mercurio soprattutto per i mezzi di comunicazione, tutte quelle cose che hanno a che fare con la tecnologia perché nelle ultime settimane si è congiunto con urano e quindi anche non solo gli strumenti elettronici ma anche le comunicazioni impazzite o avvisi e notizie magari anche non gradite. Il 3 di giugno entra nel segno dei gemelli, transita tra il 3 di giugno e il 17 in questo spazio zodiacale dopodiché entra nel segno del cancro. Venere fino al 17 transita nel segno dei gemelli, dopodiché il 17 insieme a Mercurio entrano tutte e due nel segno del cancro. Marte si trova nel suo segno preferito nel segno della riete e ci resta fino al 9 di giugno quando poi lascerà lo spazio zodiacale della riete ed entrerà nel segno del toro. Poi abbiamo Giove che sta transitando nel segno dei gemelli ed è uscito lo speciale settimana scorsa, troviamo Saturno nel segno dei pesci, Urano nel segno del toro, Nettuno nel segno dei pesci e Plutone nel segno dell'acquario. Ci sono due appuntamenti importanti con le lune nel mese di giugno. Il primo appuntamento lo vivremo il 6 o meglio attorno al 6 di giugno quando la luna diventa nuova nello spazio zodiacale del segno dei gemelli. Questa luna chiude un portale che si è aperto il 23 di maggio quando la luna è diventata piena nel segno del sagittario e quindi tutti i segni mobili connessi ai gemelli entro il 6 faranno delle cose molto importanti, prenderanno delle decisioni importanti, rimetteranno a posto delle cose, sistemano, preparano il terreno a qualcosa di molto importante che poi porterà in manifestazione Giove nel segno dei gemelli. L'altro appuntamento con la luna nel mese di giugno è la luna che diventa piena nel segno del capricorno, il giorno 22 di giugno, ed è una delle lune più importanti dell'anno, perché è la luna che si forma nel segno opposto al domicilio naturale del cancro, cioè il capricorno. Bene, quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere come sarà il mese di giugno, segno per segno, e ascoltate anche il vostro ascendente. Parliamo del segno dell'ariete o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Giugno ha due velocità completamente diverse. Nella prima parte del mese si sembrerà di essere all'interno di un frullatore, con tante cose da gestire, tante cose da sistemare, ma sarà anche particolarmente stimolante e piacevole vivere le prime due settimane di questo mese, che saranno intensissime dal punto di vista logistico e organizzativo, perché serviranno proprio per preparare, gestire, organizzare, sistemare, prendere accordi, chiamare, mettere a posto delle cose. Nella seconda metà del mese di giugno, invece, quando il sole entrerà nel segno del cancro anticipato da mercurio e da venere, che il giorno 17 entrano in quadratura nel segno del cancro, incomincia una fase di rallentamento che porterà il nostro Ariete a confrontarsi con una delle fasi più importanti del 2024. La prima quadratura del sole dal compleanno e che vi porterà a mettere sotto revisione, a sistemare delle cose, a preparare il terreno a un altro momento importantissimo che avverrà nel cuore dell'estate, verso la fine di luglio. E in questa fase la casa, il lavoro, tutto quello che in qualche modo rappresenta il punto di radicamento al suolo del nostro Ariete, cioè tutte quelle cose che lo fanno sentire tranquillo e che offrono stabilità e garanzie per il nostro Ariete, verranno messe sotto revisione e da lì prenderete delle decisioni che saranno importantissime. Può essere un momento molto importante per il lavoro, proprio perché vi arriveranno delle notizie, delle proposte, delle comunicazioni che possono aiutarvi a rilanciare la vostra immagine, la vostra carriera e mettere anche in circolo delle novità che vi porteranno poi ad avere buon umore. Il problema qual è? È che nei primi giorni del mese di giugno sarà tutto un caos, sarà tutto molto veloce. Dopodiché cambiando queste energie incominciano a sedimentarsi le cose e incominciano anche a rallentare i ritmi. Questo può essere anche un momento molto importante per quanto riguarda uno spostamento, un trasloco, per quanto riguarda il discorso casa, una compravendita o se dovete fare degli investimenti in ambito professionale ma anche in ambito personale, connessi anche alla tecnologia o con la casa. Ora, se state aspettando delle notizie, delle comunicazioni che riguardano proprio il lavoro, se avete fatto delle proposte o se dovete farle voi e quindi se vi dovete candidare, il periodo che va dal 23 di maggio fino al 6 di giugno sarà particolarmente fecondo e non escludo che attorno alle giornate del 6 di giugno si possa aprire una porta molto importante nei negoziati, nelle trattative e nelle proposte. Quindi se dovete muovere in modo preventivo i vostri scacchi sulla scacchiera, fate la vostra mossa attorno al 6 di giugno e incominciate a preparare il terreno alla fase 2 di giugno che avverrà poi dalla seconda metà in avanti quando tutto rallenta. Quella quadratura che si forma con il sole, con il passaggio di venere, mercurio e sole nel segno del cancro, vi porterà poi a ridistribuire, a mettere sotto revisione delle cose e a fare delle scelte o prendere delle decisioni molto importanti in ambito o professionale o connesse alla casa e anche di natura familiare. Quella seconda fase del mese vi porterà a stretto contatto con il ruolo che avete anche all'interno della vostra famiglia e non escludo che possano anche appiopparvi delle responsabilità o che dovrete gestire delle situazioni che possono in alcune giornate alterare le vostre emozioni soprattutto attorno al 22 del mese quando si forma la luna piena nel segno del capricorno che porterà responsabilità e anche un pizzico di rigidità. Per quanto riguarda il discorso sentimenti e relazioni fino al 17 sarà tutto un tourbillon, tutto molto interessante, molto stimolante, è un periodo molto fecondo per chi è single perché vi darà la possibilità questa venere nei gemelli di fare degli incontri molto stimolanti e di conoscere delle persone che hanno il loro perché, che possono lasciare il segno e anche chi è in coppia nella prima parte del mese di giugno tutto quello che ha a che fare con l'intesa, la comunicazione, il raggiungere dei traguardi, il formulare nuovi obiettivi è un po' il comune denominatore. Poi però cambiano le frequenze e venere nel giorno 17 entra nel segno del cancro, questa quadratura vi porterà a strutturare meglio il rapporto, a capire se la persona che magari avete incontrato da poco è valida o meno, vi può offrire delle garanzie che offrono stabilità e continuità nel tempo. Le emozioni però in alcuni momenti potrebbero giocarvi dei brutti scherzi e quindi premere forte su quelle situazioni, su quei meccanismi inconsci di difesa che possono portarvi magari ad accelerare le cose, a smuovere un po' troppo, a fare delle richieste che magari dall'altra parte non possono essere ancora accolte in questo momento o addirittura nella foga, nel non essere in grado di riuscire a elaborare perfettamente le vostre emozioni si possono creare delle situazioni che vi portano magari a prendere una decisione in modo avventato per proteggervi, però li dovete valutare voi con chi siete e che cosa vi viene offerto dall'altra parte. C'è anche la possibilità di incominciare con questo transito che è un po' più sfidante a costruire e quindi a mettere in opera qualcosa di importante. Se invece siete in coppia la prima parte del mese è particolarmente stimolante, la seconda io vi vedo un po' alle prese come coppia per quanto riguarda il contesto nido famiglia e anche dei cambiamenti che possono riguardare la casa e lì dovete fare un ottimo gioco di squadra. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro uno splendido mese stellare. Ciao! Parliamo del segno del toro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Dunque le ultime settimane ma anche gli ultimi mesi hanno portato il toro a confrontarsi con tante cose da mettere a posto, con tante cose da sistemare, ma anche parecchie novità all'orizzonte che avete incominciato a intravedere. Il periodo che state vivendo diventa molto importante soprattutto dal 9 di giugno quando Marte irromperà nel vostro spazio zodiacale regalandovi così il coraggio di intraprendere quel nuovo cammino che si è districato proprio sotto i vostri piedi nel corso delle ultime settimane anche andando a gestire delle situazioni poco piacevoli. Magari avete subito dei cambiamenti, avete smosso delle cose, avete incominciato a lavorare a delle situazioni nuove, ma avete sempre un po' la sensazione di essere lì, appesi da qualche parte, immobili ad aspettare delle cose. Ecco che Marte entrando nel vostro spazio zodiacale il giorno 9 di giugno andrà ad attivare tutte quelle cose che avete messo in cantiere e in opera nel corso delle ultime settimane, diciamo da dopo il compleanno, ma anche ottenere finalmente quella grinta, quel coraggio, quella determinazione di andare ad affrontare gli ostacoli e le problematiche con un atteggiamento completamente diverso. Questo cambio di atteggiamento verrà notato sicuramente dalle persone che ruotano attorno a voi. Alcuni possono gradire molto questo scatto, questa nuova grinta e questa verve. Altri invece possono sentirsi un po' minacciati da questa ripresa, da questa forza di volontà. Ecco dovete cercare anche qui di capire con chi avete a che fare e se le persone possono esservi d'aiuto o meno. C'è ancora una fase nella prima parte del mese di revisione, di contenimento di tutto quello che ha a che fare con la progettazione, lo sviluppo dei progetti, ma anche per quanto riguarda il discorso spese, mettere a posto delle cose, calcolate che adesso si avvicina anche il periodo della dichiarazione dei redditi, quindi bisogna con questo mercurio che entra in gemelli e che andrà in rotta di collisione con Saturno, bisogna magari andare a stanare dei documenti, bisogna mettere le cose a posto e tutte le scelte e le decisioni che metterete in campo proprio in questo mese vi porteranno ad avere già un'ottima rendita entro luglio. Quindi preparate bene le vostre prossime mosse da fare. Non escludo che ci possano essere ancora nella prima parte del mese di giugno dei rallentamenti, delle situazioni economiche che vi portano ad avere un po' di ansietta, però tutto sommato le cose poi si risolveranno, anche perché la seconda metà del mese sarà particolarmente stimolante e completamente diversa rispetto alle ultime settimane. Ritroverete soprattutto la voglia e l'autostima aumenterà tantissimo e questo vi porterà a innescare delle cose nuove molto stimolante nei progetti, ma anche nella comunicazione, anche a decidere di disinvestire un attimino sul tutto quello che vi porta a mantenere costantemente il controllo della situazione per dedicarvi ad altro. E questa seconda metà del mese sarà molto stimolante, molto divertente. Possono arrivare delle notizie molto importanti verso la fine del mese. Tenetevi pronti attorno al 22 del mese di giugno, quando possono presentarsi delle proposte di collaborazione, dei cambi di lavoro e delle notizie molto stimolanti che vanno a mettere in circolo delle cose nuove che vi piacciono molto. E quindi la seconda metà del mese è molto interessante. Ottimo anche questo periodo se dovete fare delle proposte, se dovete prendere delle decisioni importanti, ma non escludo che potreste anche entrare in contatto con delle persone nuove, quindi fare delle conoscenze molto importanti che vi aiuteranno a portare a termine qualcosa su cui state lavorando o a iniziare o a intraprendere proprio un nuovo cammino. E quindi sarà un po' nella seconda metà del mese come trovarsi al posto giusto nel momento giusto, con le persone giuste. Questo può essere anche un periodo molto importante per tutti quei toro che devono o cambiare casa o che devono sistemare delle cose in casa. La prima parte del mese può essere ancora un po' rallentata dove ci possono essere magari anche delle problematiche da mettere a posto, dei ritardi nelle consegne eccetera dopodiché la parte, la seconda metà del mese sarà molto più fluida. Il mio consiglio è quello di non trattenere nella comunicazione, in qualsiasi contesto, imparate a comunicare con il mondo esterno, a non trattenere delle cose, perché il rischio con questo nuovo transito anche di Marte nel vostro spazio zodiacale è che se trattenete troppo a un certo punto esploderete ed esplodendo con Marte non è proprio il massimo della vita. Quindi se avete un dubbio, se avete una perplessità, se avete un'idea, se vedete anche delle cose che non vi piacciono, che non vi appartengono, non vi danno quel qualcosa che state cercando e aspettando, dall'altra parte comunicatelo tranquillamente, disinvoltamente. È inutile trattenere, questo è il mio consiglio. Dal punto di vista dei sentimenti, giugno è un mese che nella seconda metà vi darà molti nuovi stimoli e molti input in più. Porta molta leggerezza rispetto le ultime settimane e se avete gestito dei momenti di crisi in coppia, cosa che si può anche verificare ancora nei primi dieci giorni del mese di giugno e quindi incomprensioni, situazioni magari da mettere a posto, cose connesse alle spese, alla casa, magari non è sempre facile trovare un punto di incontro nella relazione, ecco che poi nella seconda metà del mese diventerà tutto molto più fluido, stimolante e interessante anche dal punto di vista della pianificazione dei progetti da realizzare nel corso del futuro e anche scegliere magari la prossima metà per andare in viaggio. I single nella prima metà del mese saranno un po' rallentati o meglio. Io vi vedo in alcuni momenti decisi ma allo stesso tempo spaventati. Quindi se vi manca quella leggerezza con cui approfondire le prime conoscenze e le relazioni nuove che possono nascere evitate di investire nella prima parte del mese di giugno su queste cose, evitate di entrare a gamba tesa, evitate di trarre delle conclusioni ma soprattutto se vi sentite ancora feriti da situazioni del passato da archiviare da mettere a posto la prima parte del mese di giugno è importantissima per curare tutte queste lesioni, queste ferite per poi avere una seconda metà del mese dal 17 in avanti quando venere entra nel segno del cancro molto più stimolante dove farete incontri con molta facilità e c'è anche la possibilità di incontrare queste persone nuove o attraverso l'uso dei social network, dei viaggi, degli appuntamenti di lavoro e quindi gli spostamenti ma anche attraverso le iniziative e le amicizie. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è io vi auguro uno splendido mese stellare. Ciao! Parliamo del segno dei gemelli o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale, lo sentite questo cambio di arietta? Ebbene sì ragazzi questo è il mese dei nuovi inizi, degli stimoli, delle possibilità, delle nuove possibilità ma soprattutto è il mese dove Giove incomincia a creare nuovi orizzonti, a esplorare nuove connessioni importanti, incomincia a espandere tutte quelle nuove possibilità. Dentro a queste possibilità ci sono anche delle nuove opportunità da cogliere e per certi versi questo è un compleanno importantissimo perché si genera proprio l'impalcatura del vostro anno solare, un anno solare che vi farà compagnia fino a giugno dell'anno prossimo con Giove nel segno che fa da cassa di risonanza e da trasformatore. Ora questo è un momento importantissimo per prendere le prime decisioni, per muovere i primi passi in una determinata direzione e come ho detto nello speciale di Giove questo può essere periodo dove scatta quella scintilla che vi porterà a intraprendere un primo cambiamento o a smuovere delle cose molto importanti che poi vi accompagneranno entro l'autunno a una prima fase di raccolto che sarà importantissimo. Ora tutto quello che ha a che fare con le novità, le proposte, tutto quello che ha a che fare con le decisioni è il comune denominatore del mese di giugno, mese che vi porterà anche poi a stretto contatto con tutte le vostre nuove necessità perché il periodo di ricarica solare serve proprio per ricaricare le batterie e poi incominciare a confrontarsi con le nuove necessità alla luce di tutti i cambiamenti che vorreste manifestare nella vostra vita e quindi per certi versi può essere un mese di grandi illuminazioni, di nuovi bisogni che emergono sotto forma di stimoli ma anche di ambizioni e possono e può anche essere un mese importantissimo per le relazioni e i contatti nuovi che aggancerete che vi porteranno poi a trovarvi al posto giusto nel momento giusto con le persone giuste. Mercurio ritorna a casa vostra nel segno tra il 3 e il 17 di giugno. Mercurio è il vostro governatore e questo vi porterà ad accelerare delle cose. In quel periodo soprattutto attorno al 6 di giugno quando la luna diventa nuova nel vostro spazio zodiacale possono incominciare ad apparire all'orizzonte delle grandi novità, delle opportunità da cogliere ma sono soprattutto comunicazioni importanti, la pianificazione e lo sviluppo di un progetto nuovo, di un qualcosa di ambizioso. Quindi tenete gli occhi aperti e soprattutto puntati verso l'orizzonte attorno alle giornate del 6 che sono giornate importantissime anche per chi deve sostenere degli esami, dei colloqui di lavoro e se dovete fare delle proposte scagliate tutte le frecce che avete in un'unica direzione attorno al 6 e vedrete che si aprono le porte che si devono aprire. Questo può anche essere un mese di importante revisione per tutti quelli che hanno delle situazioni da mettere a posto nel passato dove ritornano affinché possiate metterle a posto ed elaborare meglio i dati del passato. Questo però vi porterà poi a stretto contatto con la seconda fase del mese di giugno. La seconda fase del mese di giugno ha a che fare proprio con le vostre nuove priorità e tutte le trasformazioni che avete subito nel corso dell'ultimo anno e mezzo circa incominceranno ad avere un senso ben preciso proprio verso la fine del mese. Ottimi gli investimenti nel mese di giugno soprattutto nella seconda metà del mese dal 17 in avanti e possono essere investimenti di datura professionale così come possono anche essere investimenti connessi alla casa e all'abitazione. Per quanto riguarda il discorso iniziative questo è un mese che vi porterà non solo a confrontarvi con tutti i nuovi inizi nuovi bisogni e le necessità ma sarete proprio alla ricerca della leggerezza e questo vi porterà a crearvi nuove connessioni importanti nelle amicizie e nelle relazioni ed è proprio di relazioni che voglio parlare adesso. Venere si trova nel vostro spazio zodiacale e vi farà compagnia fino al 17 di giugno. Questa venere crea tutte le occasioni nuove per incontrare persone ma anche per sistemare un po' i conti in tutti quei rapporti che o non sono più rapporti o che sono particolarmente in bilico ed è proprio il mese delle decisioni, dei cambiamenti dove cambierete voi atteggiamento, dove sarete anche più visibili, più appetibili e questo vi porterà a crearvi delle migliori connessioni con più facilità. Se siete single fino al 17 avrete la possibilità di incontrare persone molto importanti che possono fare la differenza così come possono anche riproporsi dei personaggi che si erano già presentati nel vostro passato recente ma magari voi non eravate pronti o le persone che avete incontrato non erano pronte e adesso avrete così la possibilità di tornare a frequentare queste persone. Poi dal 17 in avanti metterete alla prova tutti i candidati che avete selezionato nella prima parte di questo mese e incominciano le prime prove di costruzione e di analisi anche per quanto riguarda la fattibilità di rischio e quindi se avete attirato delle nuove persone incomincerete a mettere a mettere alla prova l'andamento di questo rapporto. Se invece siete in coppia questo fino al 17 è un momento di grande sistemazione, di preparazione ma anche di rielaborazione dei dati anche alla luce di tutte quelle problematiche che ci sono state. Giove nel segno spinge tantissimo sui cambiamenti, su tutte quelle cose nuove che possono dare un po' di ciccia ed ecco che proprio nel mese di giugno incominceranno a prendere forma in coppia delle importanti novità ma vi metterete anche al lavoro a nuovi progetti che realizzerete entro la prima parte dell'autunno e che possono riguardare in questo momento la casa o addirittura il lavoro in tandem proprio con il partner. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro uno splendido mese stellare e vi faccio ancora tantissimi auguri di buon compleanno. Ciao! Parliamo del segno del cancro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Questo è il mese che vi prepara al compleanno sebbene nei primi 20 giorni di questo mese il sole transiterà nel segno alle vostre spalle cioè nei gemelli e quindi diventa un periodo importante di preparazione alla fase 2 del mese di giugno che poi vi vedrà protagonisti. Prima di essere protagonisti lavorerete ancora dietro le quinte nell'anticamera e tutto quello che ha proprio a che fare con la revisione, la preparazione, la sistemazione ma soprattutto il confrontarsi con tutto quello che energeticamente sta diventando insostenibile o che non vi piace più perché dovrebbe anche emergere in questo momento tutto quello nel quale non vi rispecchiate più, non vi piace più, non vi gratifica più o tutte quelle cose su cui voi avete investito tantissimo e che non vi hanno portato però da nessuna parte e quindi diventa un ottimo momento la prima parte del mese per correggere, sistemare ed eliminare così tutte le zavorre, tutte quelle cose che vi ostacolano o vi fanno sentire lontani anni luce dalle vostre nuove necessità e priorità. In questa prima parte del mese di giugno ci possono anche essere degli appuntamenti importanti per tutti quei cancro che hanno fatto delle richieste soprattutto in ambito economico e se stanno aspettando delle risposte da parte di un istituto di credito. Tenetevi pronti perché attorno al 6 di giugno ci possono essere delle novità importanti, se state aspettando un mutuo, se avete fatto la richiesta di un finanziamento, se state aspettando di ricevere un credito e tutto quello che ha a che fare un po' con le questioni economiche, fiscali, burocratiche, nella prima parte del mese di giugno vi porterà stretto contatto con tutte queste cose. Dopodiché incomincia a cambiare la rietta. Dal 17 Venere e Mercurio irrompono nel vostro spazio zodiacale e preparano la stradina al sole che entrerà il 20 proprio nel vostro segno. Con il sostizio d'estate cambierà tutta la rietta e lì vedremo il nostro cancro aprire il pannellino solare e fare la ricarica. Ora dal 17 al 22, il giorno in cui si manifesta anche la luna che diventa piena in capricorno, preparatevi a delle notizie, a delle comunicazioni importanti, c'è la possibilità per alcuni di voi di rilanciare la propria carriera, così come c'è anche la possibilità di passare delle selezioni importanti, le candidature e in quel periodo metterete in circolo delle cose che vi porteranno poi a prendere delle decisioni che saranno importantissime per voi e quindi preparatevi a una seconda metà del mese che è particolarmente stimolante e che vi ricompenserà di tutta quella prima parte del mese che può essere un po' shakerante in alcuni momenti e stancante. È possibile che in alcuni momenti nella prima parte del mese alternerete il bisogno di isolarvi, il bisogno di stare da soli a contemplare la natura, la solitudine, perché non vi sentite sintonizzati sulle frequenze del momento. Però questo ad esempio può essere anche un buon momento oltre al concetto di isolamento, ci può essere anche il discorso salute, il mettersi in forma, riprendere un po', nutrirsi in un modo diverso e anche confrontarsi con tutte quelle cose che vi portano a non riuscire ad uscire dalla vostra zona di comfort e tutto questo poi vi farà fare uno scatto in avanti. Ottimo il mese anche per quanto riguarda il discorso spese e opportunità da cogliere in ambito economico soprattutto nella prima parte del mese e poi andranno in manifestazione, cioè verranno erogate tutte queste cose, tutti questi crediti nella seconda parte del mese. Alcuni di voi sentiranno anche forte il bisogno di cambiare o look o atteggiamento nel mese di giugno. Per quanto riguarda il discorso sentimenti e relazioni fino al 17, finché venere transita nel segno alle spalle, in coppia ma anche chi è single, si può fare un po' più di fatica, ad esempio in coppia potreste essere un po' più appesantiti. Alcuni di voi si renderanno conto di avere investito del tempo in personaggi o in rapporti che in realtà non sono rapporti con persone magari che possono essere un po' disfunzionali o hanno delle problematiche e avete come l'impressione di andare un po' a senso unico, controcorrente. Ecco questi rapporti e queste relazioni verranno messe sotto revisione e vi porteranno poi a maturare una scelta. Scelta che si può tradurre in una separazione, così come anche a riformulare, ricalibrare bene mettendo degli out-out e avvisando il partner che se non cambiano le cose ce ne andiamo. Ci sono anche i single in questo calverone nella prima parte del mese di giugno dove purtroppo o attireranno della pattumiera energetica e cosmica oppure si renderanno conto che di non essere ancora del tutto pronti per abbandonarsi a un rapporto o a una relazione. Ottima proprio questa venere nei gemelli fino al 17 di giugno per elaborare una ferita, per mettere a posto le cose del passato. Dopodiché dal 17 di giugno in avanti il rompe venere nel vostro spazio zodiacale e porta tutto nella vostra direzione. Ottimo il periodo verso la fine del mese per i nuovi incontri, tenete d'occhio le giornate attorno al 22 che sono molto molto importanti, soprattutto per gli incontri, ma anche per chi è in coppia questo è un po' la seconda metà del mese è un periodo di sistemazione, di nuovi inizi, di cose importanti che vi porteranno proprio a sentirvi meglio rispetto alla prima parte del mese che è un po' caotica e difficile da gestire. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro uno splendido mese stellare e per gli auguri di buon compleanno ci vediamo strada facendo, non si fanno in anticipo. Ciao! Parliamo del segno del leone o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Il warning del vostro astro coach è quello che per il mese di giugno il leone dovrà imparare un attimino a contenere tutto questo friccicore, tutte queste novità, tutte queste situazioni nuove, perché il rischio è quello di perdersi nel pieno del vuoto del nulla. Questo è un momento che è particolarmente stimolante, molto interessante dal punto di vista delle iniziative, delle novità, dei contatti, delle relazioni e di tutto quello che ha a che fare proprio anche con lo sviluppo dei progetti nuovi e avete un occhio puntato sul futuro. Il rischio però è che dal 3 in avanti, almeno fino al 17, tutto questo tourbillon, tutta questa roba qua, possa portarvi a perdere di vista il focus e quindi ad essere distratti, a non essere del tutto concentrati e quindi a far fatica magari anche ad assumervi delle responsabilità in alcuni momenti. E con Marte che sta entrando nel segno del toro e quindi si parla di responsabilità da gestire soprattutto in ambito professionale o per quanto riguarda magari il discorso casa e famiglia, tutte queste frequenze amiche di fatto del segno dei gemelli che creano stimoli e ping continui rischiano di farvi perdere di vista il focus. Quindi siccome mi piace dare tutte le informazioni del caso, questo può essere un momento straordinario ma bisogna imparare a coinvogliare bene l'energia di questi pianeti nel segno dei gemelli per non disperderla e ci sono anche nella prima parte del mese di giugno delle opportunità da cogliere proprio nelle conoscenze, nelle amicizie e in tutto quello che ha a che fare con i progetti condivisi che vi porterà a trovarvi un po' al posto giusto nel momento giusto anche magari forzando un po' le cose ma ci arrivo. Se andrete a gestire molto bene la prima parte del mese di giugno camperete un po' di rendita poi nella parte finale del mese e nelle prime settimane di luglio quando i pianeti si collocano nel segno alle vostre spalle nel cancro e che annunciano di fatto l'arrivo del compleanno ma che vi separano anche dal compleanno e che quindi possono avere anche un forte impatto fisiologico e anche logistico nel sistemare e nell'organizzare tutto. Quindi dovete comunque mantenere la calma e dovete fare le cose per bene onde evitare poi verso la fine del mese di giugno e inizi di luglio di pagare il pegno perché in quella fase di pre rinascita potreste sentire potreste arrivare con la lingua sotto i piedi appesantiti potreste prendervi ma avere la necessità poi di prendervi qualche giorno per riposare perché quel periodo diventa anche un po' più faticoso. Attorno al 6 di giugno si forma la luna nuova nel segno dei gemelli e quello è un appuntamento importantissimo perché vi porterà uno slancio nella creatività, idee geniali e particolarmente feconde ma anche allo sblocco di notizie che vi porteranno delle conferme, conferme importanti in ambito professionale ma anche nella realizzazione dei progetti futuri soprattutto se state pensando a delle collaborazioni. Come ho detto nello speciale di giove tutto quello che ha a che fare un po' con il mondo dello spettacolo, dell'editoria ma anche casting tutte quelle robe lì sono un po' baciate dalla fortuna in questo momento e quindi potreste anche trovare delle persone in questo momento che vi porteranno poi al posto giusto nel momento giusto ma non solo nel settore dello spettacolo anche per le persone comuni quindi sfruttate la prima parte del mese e cercate di concentrarvi di mantenere il focus su quello che vorreste realizzare per non perdere di vista l'obiettivo e sempre nella prima parte del mese diventa ottimo il periodo per chi deve sostenere delle selezioni, delle candidature nel lavoro ma anche per chi deve fare delle scelte importanti per quanto riguarda una possibile strada da percorrere poi in autunno e quindi penso anche ai giovani studenti, penso a chi deve sostenere gli esami di maturità, chi deve prendere delle decisioni importanti. Utilizzate la prima parte del mese di giugno perché è molto importante. Dal 17 di giugno Venere e Mercurio entrano nello spazio zodiacale del segno del cancro anticipano l'ingresso del sole e quando il sole transiterà nel segno del cancro dal 20 di giugno in avanti incomincia quella fase che per il leone anticipa il compleanno che parla di prerinascita e che vi porterà a lavorare intensamente su di voi dal punto di vista energetico sentirete il bisogno di rimettervi in forma, di incominciare una dieta, di alleggerirvi laddove ci sono delle situazioni che vi riempiono di pattumiera energetica anche se siete troppo disponibili. Quindi se verso la fine del mese di giugno vi sentite spolpati energeticamente, vi accorgete che ci sono magari delle persone che se ne approfittano della vostra bontà, generosità e disponibilità e incominciate a mettere pesi e misure, a ridistribuire pesi e misure e a chiudere i rubinetti energetici soprattutto attorno al 22 quando la luna piena nel segno del capricorno vi invita ad accelerare un attimo e a prendervi cura di voi evitando di intasarvi con i problemi degli altri. Per quanto riguarda il discorso sentimenti fino al 17 sarà un wow continuo. Possono arrivare delle conferme importanti anche inaspettate per chi è da poco che si sta frequentando, possono anche incominciare a prendere forma i primi passi importanti da fare in coppia che vi porteranno poi magari a pianificare nel futuro un matrimonio, una convivenza. Insomma questo è un periodo particolarmente stimolante anche per condividere con il partner progetti, sogni, passioni e anche dal punto di vista sessuale questo è un ottimo momento. Anche per chi è meno giovane perché questo può essere un momento che vi aiuterà fino al 17 di giugno a crearvi delle connessioni molto importanti incontrando persone sul vostro cammino che lasciano il segno e le giornate più feconde saranno proprio attorno alle giornate del 6. Peraltro se siete in coppia e state cercando magari di mettere su famiglia, di allargare il nido, e beh la giornata del 6 è particolarmente feconda. Poi c'è anche Giove che sta lavorando e quindi sicuramente questo è un ottimo momento per discutere anche magari se desiderate avere un figlio nella vostra vita in coppia eccetera eccetera. E quindi questa prima parte del mese agevolerà tantissimo sia single che in coppia. Dopo il 17 in avanti i single cambieranno un po' atteggiamento e quindi potrebbero sentirsi un po' più appesantiti e avere il bisogno di defilarsi e quindi di non uscire così tanto e di non creare quelle situazioni che vi possono agevolare nel crearvi proprio delle connessioni. In coppia invece incominciano le prime prove su strada, prove che tivano delle cose che parlano di costruzione nel tempo ma che vi porteranno magari anche a rendervi conto di quali sono i vostri limiti e i limiti del partner e quindi magari bisogna correggere un attimino delle cose nell'ultima fase del mese di giugno ma non vi preoccupate perché vi farò io compagnia di settimana in settimana spiegandovi che cosa può emergere. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro uno splendido giugno stellare e mi raccomando coinvogliate più che potete nella prima parte che è molto molto bella. Ciao! Parliamo del segno della vergine o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Ci sono più fronti nel mese di giugno che sono attivi nel cielo della vergine, il transito più importante è la quadratura di questi pianeti che stanno transitando nel segno dei gemelli, giove compreso, e che portano la vergine a fare un focus proprio di natura professionale o che lo portano o che portano la vergine a stretto contatto con tutte le cose da sistemare, da pianificare, assumendosi anche delle responsabilità. E non mi riferisco solo al lavoro, alla carriera, ma anche a tutto quello che riguarda un po' la famiglia, la gestione della casa e tutto quello che vi porta a stretto contatto con il vostro ruolo nel mondo. Ora, i primi giorni del mese di giugno saranno molto intensi. Bercurio il 3 di giugno lascia lo spazio zodiacale del toro ed entra proprio in gemelli e ci resta fino al 17, transita velocissimo, quindi lì impegni, scadenze, cose da mettere a posto, questioni burocratiche, spese, insomma vi sembrerà come avere a che fare con un mini pimmer impazzito. Però è anche un periodo molto importante quello proprio anche per le comunicazioni nuove. Se avete fatto delle richieste è possibile che potreste anche ricevere delle conferme molto importanti da parte di un superiore che vi chiede però il vostro appoggio, che chiede il vostro contributo e potreste gestire delle cose nuove come incarichi che vi portano ad assumervi delle responsabilità. Ci possono essere dei cambiamenti che vi agevolano ma che vi sfiancano sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista personale perché questo è un momento rigidino, spigoloso e la prima parte del mese vi porta a stretto contatto con le responsabilità, le urgenze, tutto quello che è da mettere a posto e da sistemare ma anche tutte quelle cose nuove che su cui la Vergine deve lavorare. Sull'altro fronte del cielo però dal giorno 9 di giugno arriva un alleato inaspettato perché nel corso delle ultime settimane ma anche negli ultimi due mesi la Vergine ha fatto fatica a trovare la forza di volontà, trovare la determinazione, la cazzimma come si suol dire e il 9 di giugno Marte, il pianeta proprio della forza di volontà, della determinazione e della cazzimma, entra nel segno amico del toro. Questo vi porterà tanta forza di volontà ma soprattutto una nuova capacità di ridistribuire e di veicolare esattamente le risorse, le vostre energie là per andare verso la vostra realizzazione ma anche per riuscire a gestire tutte le cose non solo in ambito professionale, anche in quello privato e quindi vedremo scendere in campo una Vergine più determinata, più sicura di sé, con molta più fiducia e forza d'animo che prima mancava e quindi il periodo diventa importantissimo sebbene sarà ancora un po' stressante nella prima parte del mese di giugno. Ottimo questo periodo per chi deve passare delle selezioni importanti sia per chi sta cercando lavoro ma anche per chi deve sostenere degli esami o delle selezioni nella pubblica amministrazione. e le notizie, le convocazioni, le selezioni, tutte le telefonate di lavoro, tutto quello che si può smuovere a livello professionale in termini anche di proposte arriveranno attorno alle giornate del 6 di giugno quando la luna diventerà nuova nel segno dei gemelli, luna che vi porterà anche magari a prendere delle decisioni importanti e ad attuare delle contromisure per sistemare tutte quelle cose che vi state trascinando dietro e che vi impediscono di raggiungere un traguardo importante sia di tipo professionale ma anche di tipo personale. Dopodiché il cielo incomincia a leggerirsi nella seconda metà di giugno quando il 17 Mercurio e Venere escono dallo spazio zodiacale dei gemelli e quindi lì la Vergine si sentirà lo zaino più leggero, escono dal segno dei gemelli per entrare nel segno del cancro e questi pianeti tracciano il percorso del sole che entrerà il giorno 20 di giugno nel segno amico del cancro e questa nuova fase spegne i riflettori su quel momento particolarmente intenso e incominciano a prendere forma delle novità, incominciano a prendere forma delle sensazioni che vi portano a cercare la leggerezza e tutto quello che ha a che fare con le amicizie, le iniziative, la pianificazione del futuro ma proprio anche delle cose più stupidine e più leggere sarà il comune denominatore e all'interno di questi settori di vita, le amicizie, iniziative, la pianificazione del futuro, tutto quello che ha a che fare con i progetti condivisi, le collaborazioni, possono nascondersi degli intrusi molto importanti sia per il cuoricino ma anche per fare nuove esperienze che vi porteranno poi a cogliere delle nuove opportunità. Ma parliamo di rapporti e di relazioni perché fino al 17 venere rema a sfavore nel segno dei gemelli con la sua rigidissima quadratura porta la vergine a confrontarsi soprattutto con i doveri, le responsabilità ma anche quello che non c'è, quello che manca, quello che deve portare una maggiore stabilità e quindi va da sé che se stiamo parlando di una vergine che in coppia non ha trippa per gatti, non ci sono queste conferme, non ci sono queste garanzie, ecco che la vergine molto probabilmente prenderà delle decisioni importantissime che possono anche essere delle contromisure per sistemare le cose, per portare alla luce il problema e lavorare in coppia su questo problema così come possono anche essere delle decisioni che la vergine prende a senso unico perché non ne può più e quindi nei primi 15 giorni del mese di giugno vedremo una vergine scendere in campo per mettere a posto tutte queste cose in coppia che sono problemi da sistemare, da gestire. Se invece siete in coppia e state benissimo questa fase che può essere un po' più impegnativa va gestita con molta cautela e quindi non dovete dare il permesso a tutte queste cose di sfiancare, di sottrarre tempo di qualità alla coppia, ritagliatevi appena potete del tempo, degli spazi solo vostri da condividere con il partner. È dal 17 in avanti che cambiano le frequenze del cielo, diventano più armoniche e anche venere che si sposta nel segno del cancro, vi porterà in coppia ad alleggerirvi e ci sono delle giornate che sono particolarmente feconde, quelle attorno al 22 dove si può riaccendere una passione o se state cercando un figlio, beh quelle sono giornate dove sapete che cosa fare. Single fino al 17 potreste incappare in incontri che offrono chissà quali garanzie nel lavoro soprattutto o potreste attirare delle persone che non sanno che pesci pigliare, non sanno come, non possono darvi delle conferme. Dal 17 in avanti però cambia tutto e sono proprio le amicizie, le iniziative che nascondono degli intrusi molto importanti se siete single. Alcuni di voi si possono addirittura accorgere di provare un sentimento inaspettato dal 17 in avanti per un amico o un amico si dichiarerà e se dovete, e se avete già individuato la preda, dopo il 17 inserite la preda nel mirino e fate centro al avversaglio, soprattutto attorno al 22 del mese di giugno, quando la luna piena in capricorno andrà a fecondare tutto il parterre delle relazioni e dei nuovi rapporti. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro uno splendido mese stellare. Ciao! Parliamo del segno della bilancia o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Il mese di giugno sarà come un lungo scivolo in un parco divertimenti per la nostra bilancia, dove si prepara a fare delle esperienze molto importanti, prenderà delle decisioni molto importanti, ma soprattutto si creano delle situazioni nel mese di giugno, nella prima parte del mese di giugno che hanno il compito di allargare gli orizzonti e di dare nuove coordinate da impostare per la vita professionale o personale della nostra bilancia. E questo è un momento importantissimo anche per chi è più giovane e deve prendere, deve dare una destinazione d'uso alla propria esistenza o alla propria carriera scolastica e quindi si ritrova magari in quella fase dove deve prendere delle decisioni e scegliere magari il prossimo indirizzo di studi o che deve incominciare a traghettarsi nel mondo professionale. Questo è un momento importantissimo, avete un sacco di frecce da scoccare. La cosa più importante da fare è mantenere il focus sull'obiettivo. L'ho detto anche per i gemelli che sono i protagonisti del cielo di giugno, ma che in qualche modo rendono anche voi coprotagonisti. E quindi questo è un momento molto importante per capire dove volete andare, con chi, ma soprattutto chi volete essere nel futuro e quali sono gli obiettivi da raggiungere nel futuro. Ottima la prima parte del mese di giugno, soprattutto attorno alla giornata del 6, per chi deve sostenere degli esami, delle candidature importanti, ma anche per chi deve sostenere degli esami nella pubblica amministrazione o per chi deve sostenere delle selezioni in quel contesto. Ma possiamo anche essere in un momento molto importante per chi ha delle situazioni che si stava trascinando da lungo tempo e che ha provato a mettere a posto nel corso delle ultime settimane e magari hanno preso anche una piega ingombrante e che adesso vi porteranno a trovare la soluzione. E nella prima metà del mese di giugno, ripeto, sono gli incontri, le occasioni, le persone che vi porteranno a trovarvi in alcuni momenti nel contesto giusto con le persone giuste e si può spalancare una porta importante. Si possono anche attivare in questa fase tutti i talenti su cui avevate incominciato magari a lavorare ma poi avete messo da parte, così come si possono risvegliare delle idee molto feconde che vi porteranno, che vi parlare della bilancia di dove vuole dirigersi, dove vuole andare. Alcuni di voi si sentono non più inseriti nel contesto giusto, incominciano a guardarsi attorno, altri sentono la necessità di ripartire magari anche da andare andando lontano e quindi stanno magari valutando un possibile cambio di paese, cambio di ufficio, addirittura di nazione. Incominciate a lavorare adesso e che otterrete sicuramente le coordinate ma soprattutto guardate i segnali che appariranno davanti ai vostri occhi nel corso delle prossime settimane. Poi tutto cambia. Nella seconda metà del mese di giugno i pianeti, soprattutto Venere e Mercurio il giorno 17, entrano nel segno del cancro, formano una rigida quadratura che prepara la strada all'ingresso del sole e quando il sole entrerà in cancro il giorno 20 di giugno incomincia l'estate e incomincia anche una salita per la nostra bilancia che deve raggiungere una vetta, tagliare un traguardo e tutto quello che ha a che fare con il lavoro, le responsabilità, la casa, la famiglia saranno un po' il comune denominatore della prima parte dell'estate. Anche perché poi dalla seconda metà di luglio in avanti il cielo cambierà ancora, ma se ci sono delle cose da mettere a posto per quanto riguarda la casa, l'abitazione, la famiglia, un parente, se ci sono delle cose da mettere a posto per quanto riguarda il lavoro, quindi scelte, decisioni importanti, ma anche penso a tutti quelli che smuoveranno le energie adesso per un cambiamento e che poi verranno catapultati entro la fine del mese di giugno in una nuova realtà professionale, beh i primi giorni ci sarà mettersi un po' le mani nei capelli o bisognerà imparare a confrontarsi con questi nuovi ritmi o in questo nuovo ambiente. Non vi preoccupate perché la seconda fase del mese di giugno vi sta in realtà traghettando esattamente dove dovete andare, quindi se utilizzate bene la prima parte del mese di giugno camperete di rendita nella seconda fase del mese di giugno quando le frequenze incominciano a diventare un po' più rigidine ma sarete voi a diventare molto più rigidi e a scendere in campo per legittimarvi o a non dare più il permesso a determinate cose di ostacolare la vostra strada. Per quanto riguarda il discorso sentimenti fino al 17 di giugno venere transita nel segno amico dei gemelli ed è tutto uno stimolo, è tutto uno sfarfallio interno che agevola i più giovani del segno ma anche i meno giovani nel fare nuove conquiste se siete single. Questo può essere un periodo molto stimolante, interessante per crearsi nuove connessioni con persone magari attraverso l'uso dei social network, della tecnologia, delle chat, delle applicazioni ma anche attraverso le iniziative, i viaggi e gli spostamenti. Se invece siete in coppia la prima parte del mese di giugno va sfruttata al massimo per la pianificazione dei passi importanti da realizzare soprattutto se siete alle prese con un cambio di casa o se ci sono delle cose di carattere familiare o strutturale da mettere a posto. Quindi se sfrutterete benissimo la prima metà del mese camperete anche nei sentimenti di rendita nella seconda metà quindi preparate il terreno, preparate la strada se sapete già che verso la fine del mese, inizi di luglio dovete impegnarvi in questi contesti. Ci può essere un cambio di casa, ci può essere, si possono innescare delle cose che vi porteranno magari a cercare una casa nuova e quindi a mettere in vendita la vostra, se ci sono delle cose da sistemare in ambito burocratico, economico e entro la fine del mese di giugno verranno fuori anche sotto forma di spese, quindi calcolate tutta questa roba qua. Dopo la seconda metà del mese anche i single cambieranno atteggiamento e si sentiranno meno coinvolti, meno predisposti a fare incontri e tenderanno a concentrare le proprie risorse sul raggiungimento degli obiettivi alla luce di tutte le responsabilità che si possono manifestare nella seconda metà del mese. Questo non significa che non farete incontri ma scendono un po' di livello nelle vostre priorità e se in coppia ci sono delle problematiche entro la fine del mese verranno a galla per essere sistemate. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro uno splendido mese stellare. Ciao! Parliamo del segno dello scorpione o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Il mese di giugno sarà molto più interessante e stimolante sicuramente verso la seconda metà del mese quando già dal 17 mercurio e venere a braccetto entreranno nel segno del cancro che condivide insieme a voi l'elemento acqua tracciando il percorso del sole che poi entrerà nel segno del cancro il 20 di giugno quando incomincia l'estate e lì e si allargano gli orizzonti e quindi incomincia una fase molto più stimolante, molto più interessante anche perché nella prima parte del mese il nostro scorpione giocherà a nascondino. I pianeti che stanno transitando nel segno dei gemelli nella prima parte del mese portano lo scorpione a confrontarsi con la propria zona di comfort e tutte quelle cose che possono rappresentare una minaccia o un ostacolo nel raggiungere dei traguardi. Ora il significato del mese di giugno è molto importante perché in questa fase si attivano anche i superpoteri dello scorpione ed entra in contatto lo scorpione con tutti punti di resistenza o di ancoraggio che non vi consentono di evolvere o di andare incontro alla vostra affermazione, alla vostra autonomia o alla vostra libertà e inevitabilmente entrerete in contatto con tutte quelle situazioni che vi stanno trattenendo per la giacchetta. C'è però un ma nel mese di giugno perché il giorno 9 Marte esce dal segno zodiacale dell'ariete ed entra in opposizione nel segno del toro e Marte resterà in questo spazio zodiacale anche per buona parte di luglio. Quindi ora più che mai lo scorpione deve trovare un punto di incontro ma non deve utilizzare la vendetta come ricetta per ottenere quello che gli è stato tolto altrimenti il rischio è quello che gli si possa ritorcere tutto contro. Quindi ora più che mai nei rapporti di natura professionale, sentimentale, familiare bisogna trovare un punto di incontro tra quelle che sono le vostre necessità e le necessità dell'altro o degli altri. Proprio perché la prima parte del mese vi porterà a stretto contatto anche con tutte quelle cose che sono da sistemare nel passato, tutte quelle situazioni connesse anche al discorso economico, fiscale, burocratico, legale da mettere a posto ed è proprio in questa prima parte del mese che lo pione deve fare un buon lavoro più che su di sé proprio di mediazione altrimenti il rischio è quello di crearsi delle situazioni che poi diventano sfidanti e ostative nel raggiungere quella autonomia, quella libertà. Nella prima parte del mese soprattutto attorno al giorno 6 del mese di giugno, tutto quello che ha a che fare con questioni economiche, questioni burocratiche, fiscali, adesso è anche il periodo della dichiarazione dei redditi, vi porterà ad essere particolarmente impegnati ad andare alla ricerca, ma a livello un po' più profondo, se interpretiamo questo momento in chiave un po' più personale ed evolutiva, è il momento di massima trasformazione del nostro scorpione dove entra in contatto con i propri superpoteri ed entra in contatto anche con tutti quegli ostacoli che possono essere ostacoli e blocchi interiori ma anche ostacoli che minacciano la vostra autonomia, la vostra ascesa a livello pratico e logistico e quindi dovete essere molto bravi a non tessere una tela come il ragno per poi finirci dentro con tutte le scarpe. Entrerete sicuramente in contatto con persone che magari non ve la raccontano giusta, con persone che in realtà non vogliono il vostro bene o con persone che magari possono tendervi uno sgambetto nel lavoro eccetera eccetera. Non dovete dare la pappa a queste persone, dovete trovare un punto di incontro, fare spallucce e dire ok va bene, sediamoci un attimino e cerchiamo di capire cosa possiamo realizzare, a cosa sono disposto io scorpione a rinunciare per fare un piacere a te ma anche tu devi rinunciare a qualcosa per fare un piacere a me e quindi con questa condizione lo scorpione ripristina un equilibrio e dalla seconda metà del mese incomincia una fase molto più leggera che vi porterà a raggiungere dei nuovi orizzonti e a veicolare meglio tutti quei talenti che si stanno risvegliando proprio adesso. Ottima la seconda metà del mese per chi deve sostenere degli esami, per chi deve prendere delle decisioni, per chi deve sostenere delle selezioni importanti, anche in ambito amministrativo e quindi la seconda metà del mese è molto importante anche per i giovani magari studenti che devono sostenere gli esami di maturità o che devono prendere una decisione per indirizzare gli studi in un orizzonte ben preciso ma nella seconda metà del mese anche i meno giovani faranno degli incontri con persone che vi aiuteranno ad aprire delle porte molto importanti. Quindi, ricapitolando, la prima parte del mese da maneggiare ancora un po' con cura dove il rischio è quello di mandare in disequilibrio delle cose e o mandare a gambe all'aria anche dei rapporti. Nella seconda metà invece del mese è tutto possibile e si possono aprire delle porte molto interessanti. Se dovete fare delle richieste, se dovete scendere in campo, nella seconda metà del mese avrete carta bianca, soprattutto attorno alle giornate del 22, quando la luna diventa piena nel segno del capricorno e lì incominciano a prendere forma dei negoziati, delle trattative o si possono spalancare dei nuovi scenari molto interessanti. Parliamo di rapporti e di relazioni. Fino al 17 Venere resta nel segno zodiacale dei gemelli e questo vi porterà a viaggiare con prudenza e potreste anche essere attratti in questo momento da persone che non vi possono dare delle conferme. Questa è una Venere molto stimolante sotto le lenzuola ma poco appagante dal punto di vista proprio della costruzione dei rapporti. Potreste attirare delle persone che non sono magari del tutto pronte a costruire o voi non siete pronti a costruire in questo momento il rischio con Marte in opposizione di essere un po' troppo precipitosi, di velocizzare un po' troppo le cose e di bruciare delle tappe o di aver paura di affezionarsi a queste persone, quindi per effetto contrario tirare i remi in barca e scappare. E anche in coppia questo è un momento dove magari lo scorpione può scagliare delle freccette in una direzione ben precisa, colpire i piedi d'argilla del partner e farlo precipitare. Ricordatevi che tutto quello che userete contro gli altri può diventare un effetto boomerang nella prima metà del mese e quindi non è proprio il massimo della libidine. Molto meglio invece la seconda metà del mese, quando dal 17 si sblocca un po' il tutto, in coppia si trova una nuova armonia ma è anche un buon momento per prendere delle decisioni e quindi anche sganciarsi da situazioni e dei rapporti che sono diventati un po' tossici a andare incontro così a nuovi incontri molto interessanti. Single dalla seconda metà del mese in avanti, dal 17 ma soprattutto attorno al 22 farete degli incontri con persone che vi leggeranno proprio l'anima. Voi farete leggere la vostra anima che è una cosa molto rara anche alle altre persone che possono lasciare il segno. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro uno splendido mese stellare e mi raccomando agli strumentini che utilizzerete nella prima parte del mese. Ciao! Parliamo del segno del sagittario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. La prima metà del mese di giugno è caratterizzata da tutti questi pianeti in opposizione nel segno dei gemelli, un momento molto importante per attuare contro misure, prendere delle decisioni, fare scelte ma anche formulare nuove strategie per riprendere un po' il mano, il controllo di tutto quello che è andato fuori controllo e ripristinare così un equilibrio. Ottimo questo momento per ottenere delle risposte, per pianificare nuove strategie ma anche per incominciare a mettere in circolo delle novità nella vostra vita che vi porteranno entro la fine dell'estate e inizio dell'autunno a riscuotere un credito molto importante. Sebbene nella prima parte del mese, soprattutto dal 3 in avanti e attenzione perché le giornate tra il 3 e il 6 saranno molto caotiche, avrete come l'impressione di essere all'interno di un frullatore impazzito e quindi sono le scadenze, sono le richieste ingombranti, le cose da mettere a posto, il lavoro, casa, sentimenti, relazioni, c'è un po' di tutto in quel periodo che diventa molto stressante. Il compito però dell'opposizione, soprattutto quella del sole, è quella di ripristinare l'equilibrio, mettere le cose a posto e quindi non è un caso se in questo momento il nostro sagittario sta facendo dei bilanci importanti, sta anche traendo delle conclusioni, conclusioni verso tutto quello che è diventato ostativo, un ostacolo, un ostacolo che vi trattiene per la giacchetta, così come si possono anche creare delle importantissime novità e occasioni da cogliere in ambito sia professionale ma anche di tipo personale. Poi dopo il 17 del mese cambiano completamente le frequenze, si spengono un po' quei riflettori e incomincia una fase di rigenerazione per il nostro sagittario dove incomincerà a prendere anche un po' più di fiato e cambia anche proprio l'attitudine, cambia il modo in cui si entra in scena nell'andare a gestire delle cose. Ad esempio nella prima parte del mese non oso immaginare quelli che incominceranno un nuovo lavoro perché potrebbe essere inizialmente tutto troppo caotico, tutto troppo frenetico, così come anche il periodo della prima parte del mese di giugno è caratterizzato soprattutto da questi forti scossoni che portano il nostro sagittario a chiedersi ma è tutto qui? Cioè come posso fare per promuovere un cambiamento, per andare per gestire delle cose e gli incontri e le conoscenze che state facendo o le esperienze che state vivendo sulla vostra pelle hanno proprio il compito di guidarvi verso questi nuovi orizzonti da esplorare che si manifesteranno entro l'estate. Quindi questo diventa un momento perfetto per mettere in riga le cose, cancellare tutto quello che non vi serve più e portare con voi oltre questa fase tutte quelle cose che devono andare incontro all'espansione. Quindi è un momento molto particolare dove possono terminare dei rapporti e nel caso dovessero terminare perché si stanno per aprire delle porte molto importanti per voi. Così come possono anche aprirsi e spalancarsi delle porte alla luce di tutto quello che avete messo in movimento nel corso degli ultimi sei mesi e quindi attorno alle giornate del 6 che si forma la luna nuova in opposizione possono arrivarvi dei feedback e delle conferme molto importanti per chi deve sostenere dei colloqui o delle candidature di lavoro. Così come possono crearsi anche le condizioni perfette per intervenire, prendere delle decisioni, attuare delle contromisure per far funzionare le cose ed eliminare proprio con una bella riga nera tutte quelle situazioni che vi stanno ostacolando. Nella seconda fase del mese cambia tutto perché Venere e Mercurio escono dall'opposizione il giorno 17 in quella casa che per voi rappresenta la rigenerazione e tracciano il percorso del nuovo transito del sole che si sgancerà dall'opposizione il giorno 20 per entrare nel segno del cancro. Questa nuova configurazione del cielo vi porterà a cambiare completamente atteggiamento, a non essere più emotivamente coinvolti come prima e tutto quello che ha a che fare con la situazione economica, finanziaria, burocratica e fiscale diventerà il nuovo comune denominatore delle prossime settimane. Attorno alle giornate del 22 quando la luna diventa piena nel segno del capricorno potreste ricevere in un modo inaspettato dei crediti che stavate aspettando di tipo economico. Parliamo di rapporti e di sentimenti perché fino al 17 Venere resta in opposizione e quando Venere in opposizione non ci sono possibilità o è bianco e nero o funziona o non funziona e questo è un periodo di scelte e di decisioni importanti che vi porteranno se siete in coppia a ufficializzare delle cose e se siete single a incontrare delle persone. Il problema dove sta è che se parliamo di un sagittario che in coppia sta male o ci sono delle grosse problematiche da sistemare ecco che l'opposizione tira fuori il problema e una volta che lo ha portato fuori poi vi spinge a prendere delle decisioni. Decisioni che possono essere delle contromisure così come possono anche rappresentare delle chiusure nel rapporto ma è anche un periodo molto fecondo e importante per chi è da poco in un rapporto perché si può ufficializzare qualcosa di molto importante può prendere forma possono arrivare delle proposte di matrimonio di convivenza si può far si può presentare il partner alla famiglia agli amici e diventa un momento particolarmente stimolante anche per i single questo è un momento di conferme dove si possono ufficializzare delle cose e incontrare sul vostro percorso delle persone che hanno il compito di darvi delle conferme importanti e attenzione perché nelle giornate attorno al 6 c'è un'altissima probabilità di fare degli incontri molto fortunati per quanto riguarda invece la seconda metà del mese dal 17 in avanti convenere che entra nel segno del cancro incomincia un'altra fase e quella fase vi porterà se siete in coppia a cambiare a distogliere lo sguardo da tutti i progetti tutte le cose da realizzare da confermare e a interessarvi un po di più all'attività sotto le lenzuola e anche i single cambieranno atteggiamento saranno meno interessati a incontrare l'amore a cercare l'amore con la maiuscola ma penseranno un po di più ai divertimenti fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro uno splendido mese stellare e anche in bocca al lupo per il lavoro di controbilanciamento che è da fare in questo momento ciao parliamo del segno del capricorno per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale il capricorno si confronterà con un mese da due velocità e due funzioni completamente diverse tra loro nella prima parte del mese è tutto un organizzare pianificare portare a termine delle cose sistemare confrontarsi con tutte quelle cose che possono rappresentare un ostacolo e un motivo di rallentamento per raggiungere dei traguardi importanti anche se vi sembrerà tutto impazzito dal punto di vista della pianificazione dell'organizzazione perché mercurio tra nei gemelli il 3 di giugno ci resta fino al 17 vi porterà ad essere ad avere a che fare con delle situazioni che si verificano con poco preavviso e che vi porteranno magari in alcuni momenti anche ad accusare un po di stress e di stanchezza o a indagare molto seriamente sul tipo di ruolo che vorreste avere nel mondo in questo momento ruolo di tipo personale ma anche a livello professionale quindi possono aumentare le responsabilità possono crearsi delle situazioni che vi portano a sentirvi un po più appesantiti stanchi flosci mosci nella prima parte del mese di giugno che ripeto come ho già detto nelle ultime settimane è un periodo importante anche per individuare quel settore che vi deve portare ad avere maggiori garanzie e una nuova stabilità e continuità nel tempo che siate occupati al lavoro o meno questo è proprio il momento di chiedersi chi volete essere nel mondo e come volete mostrarvi al mondo e tutto quello che innescherete nella prima metà del mese vi porterà già a un'altra fase importante nella seconda metà del mese quando mercurio e venere entreranno in opposizione nel segno del cancro tracciando un percorso al passaggio al nuovo passaggio del sole che entrerà in opposizione anche lui il giorno 20 giugno quando incomincia l'estate ecco il periodo di inizio estate per il nostro capricorno è sempre un momento di grandi decisioni di situazioni da mettere a posto ma anche sono proprio le decisioni che metterete in circolo adesso che vi porteranno poi a raggiungere un traguardo importantissimo entro l'autunno e quindi questo diventa un momento decisamente importante dove si possono anche nascondere delle opportunità da cogliere nella prima parte ripeto nella prima metà del mese è tutto un caos è tutto molto caotico dopodiché incomincia una fase molto importante per scelte decisioni e opportunità da cogliere in ambito professionale attorno al 6 di giugno non escludo che alcuni di voi possano gestire delle situazioni che si presenteranno soprattutto in ambito professionale anche con poco preavviso e che vi porteranno magari ad approcciarvi a delle novità possono farvi delle richieste non preventivate che che aumentano di fatto la vostra le vostre responsabilità e non dovete sentirvi sfiduciati non dovete avere problemini di autostima in questo periodo perché se vi fanno una proposta accettatela perché non sappiamo dove vi porterà quel tipo di nuova esperienza perché magari è una situazione che vi traghetta da un'altra parte o avrete la possibilità di mostrare esattamente quali sono le vostre capacità cogliendo delle nuove opportunità ma il meglio arriverà nella seconda fase del mese quando possono presentarsi delle conferme importanti attorno alla giornata del 22 perché il 22 la luna diventa piena nel vostro spazio zodiacale si oppone a venere e a mercurio e al sole che stanno transitando in opposizione e lì si possono aprire delle porte nelle proposte professionali possono crearsi possono arrivare delle notizie ufficiali c'è la possibilità di mettere la firma su un nuovo contratto di lavoro così come vedremo anche un nuovo capricorno scendere in campo per sistemare tutte le cose che non funzionano o che rappresentano un ostacolo e una minaccia alla vostra autonomia e da lì incomincia quella fase di controbilanciamento importante che vi porterà a prendere delle decisioni che sono importantissime per voi e a conoscere delle persone che vi traghetteranno verso il raggiungimento degli obiettivi sia di carattere personale ma anche nelle questioni professionali parliamo di rapporti e di relazioni fino al 17 venere transita nel segno dei gemelli e con tutto questo e con tutta questa buriana che si crea nella prima parte del mese di giugno siete meno performanti anche a livello fisico vi sentirete molto stanchi sentite magari il bisogno di riprendere un po il contatto con il vostro corpo e di prendervi cura di voi e quindi i rapporti scendono un po in secondo piano o non vi sentite del tutto pronti per mettervi in per incominciare un rapporto una relazione nuova e anche in coppia tutte le responsabilità il lavoro i doveri la casa la famiglia vanno un po ad appesantire le relazioni che già esistono dal 17 in avanti però cambiano completamente le frequenze e questo vi porterà a ufficializzare delle cose se siete in coppia diventa un momento importantissimo questo mese di giugno per confrontarsi anche con tutte quelle cose che in realtà avete visto soltanto voi nella prima fase dell'innamoramento e quelle cose non ci sono ragazzi le avete viste solo e soltanto voi tutte quelle situazioni che magari sono cambiate anche dalla prima dalla fase dell'innamoramento fino a oggi ma che in realtà se sfruttata a dovere questa fase vi porterà poi a ufficializzare il rapporto e quindi a dire beh nonostante tutto non ci sono quelle robe lì che mi hanno fatto innamorare perché volevo vederle solo io però sei una persona comunque valida sei una persona abbiamo comunque degli ideali dei progetti in condivisione abbiamo delle cose e quindi andiamo a ufficializzare il tutto così come dal 17 in avanti il nostro capricorno magari si renderà conto di essere in un rapporto che non è un rapporto che non è una relazione che non offre delle garanzie e quindi lì prenderà delle decisioni importantissime o attuerà delle contromisure e per le coppie invece regolari che stanno benissimo si va a ufficializzare qualcosa di molto importante con un'opposizione di venere e questo vi porterà magari a pianificare una futura convivenza o addirittura ricevere delle proposte di matrimonio o incominciare a lavorare a un progetto importante e ambizioso in condivisione con il partner ci può essere anche in questa fase un progetto condiviso con il partner di natura professionale può nascere un sodalizio professionale con il partner che è molto importante per quanto riguarda invece i single fino al 17 o attirerete spazzatura energetica o voi non vi sentirete del tutto pronti performanti magari questo non significa che non incontrerete delle persone significa che tutto quello che vi arriva però o è condizionato da voi o è condizionato dagli altri le cose cambiano dal 17 in avanti quando venere entrerà in opposizione si creano delle situazioni molto interessanti per sviluppare nuovi incontri e nuove relazioni e le giornate attorno al 22 possono davvero portarvi a incontrare la persona giusta nel momento giusto fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro uno splendido mese stellare ciao parliamo del segno dell'acquario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale il mese di giugno sarà un mese davvero a effetto wow soprattutto la prima parte del mese che è caratterizzata anche da molti pianeti che stanno transitando nel segno amico dei gemelli e i gemelli rappresentano un po il vostro palcoscenico rappresentano anche tutti i talenti che stanno sbocciando che stanno fiorendo e quindi tutte quelle le cose che rappresentano un po il futuro le novità tutto quello che vi porterà a incominciare a lavorare a un nuovo progetto o a indirizzare meglio le energie nella realizzazione di un qualcosa è il comune denominatore di giugno un mese che attiva le vostre passioni che vi rende anche particolarmente passionali e che porterà sicuramente diverse soluzioni e se utilizzerete molto molto bene la prima parte del mese di giugno camperete di rendita nella seconda metà del mese quando cambieranno un po le frequenze e le energie già dal 17 quando venere e mercurio traghetteranno nel segno del cancro anticipando l'ingresso l'ingresso del sole che entrerà in cancro ufficialmente il giorno 20 e con l'inizio dell'estate cambiano anche le frequenze e quindi il nostro acquario si confronterà con un andamento del cielo diverso che li invita a cercare un settore che possa garantire più stabilità e continuità nel tempo a tutte quelle cose che si sono risvegliate nella prima parte del mese progetti idee ambizioni talenti passioni poi dovranno essere messe un po alla prova e quindi diventa un ottimo mese anche per trasformare le energie per veicolarle da qualche parte per incominciare a investire sulle proprie capacità ma è anche un mese di grandi riconoscimenti di grande visibilità dove sono le altre persone a indirizzarvi a guidarvi o a vedere quelle cose che magari non riuscite ancora a vedere in voi e che vi danno dei feedback positivi delle conferme questo può essere anche un ottimo mese per ricevere dei complimenti importanti alla luce di come avete gestito delle cose in ambito professionale e cogliere così anche delle nuove opportunità è il mese dove io vi invito a lanciare ami a fare delle richieste soprattutto attorno al 6 del mese di giugno quando la luna diventa nuova nel segno del dei gemelli e andrà a fecondare i talenti e la vostra visibilità e lì incominciano a prendere forma delle novità nella vostra vita l'unica ombra è l'aspetto di marte marte entra il giorno 9 giugno nel segno del toro e ci resterà per buona parte di giugno e anche qualcosina nel mese di luglio marte in toro formerà una quadratura anche se io lo vedo come un transito molto importante per tutti quegli acquario che sono alla ricerca di una nuova abitazione ed è un marte anche che vi aiuterà ad attivare a trovare delle soluzioni alle problematiche che avete gestito in ambito familiare o connesse alla casa nel corso dell'ultimo mese e nell'ultimo mese sono sicuro che il nostro acquario ha avuto delle problematiche da gestire o in famiglia o per quanto riguarda la casa questo infatti può anche essere il marte dei traslochi può essere il marte che abbia i lavori di ristrutturazione dopo magari un momento impegnativo dove magari avete fatto fatica a reperire della documentazione dove avete fatto delle richieste per quanto riguarda la casa o una delicata compra vendita e quindi si attivano queste cose e nella prima metà del mese siete supportati energeticamente dai pianeti e sarà e ve ne accorgerete molto poco della presenza di marte nella seconda metà quando cambiano le frequenze e le energie del cielo potreste sentirvi un po più appesantiti anche dalla presenza di marte essere un po più stanchi e ma sentire magari anche che è arrivato il momento di mettere un po le mani sul discorso fisico ritmi il non dare più importanza delle cose che vi porteranno a stancarvi a spolparvi energeticamente un po come avere la sensazione di inserire in un liquido in un contenitore che è bucato ecco metterete un po a posto tutte queste cose nella seconda metà del mese che peraltro la seconda metà del mese e buona parte anche del mese di luglio diventa importante per tutti quelli che vogliono un po riprendere il contatto con con il proprio corpo la propria salute e quindi diventa anche ottimo per incominciare una dieta per raggiungere dei traguardi in una dieta o in una cura nuova che avete incominciato ed è proprio il prendersi cura di sé avere nuovi ritmi il comune denominatore di quella seconda metà del cielo che è un po più impegnativa della prima per quanto riguarda il discorso rapporti e relazioni anche anche tutto questo comparto subirà l'effetto wow della prima parte del mese di giugno amori amori nuovi amori vecchi che si riaccendono ma è la passione il comune denominatore del mese di giugno che porterà le coppie ad appassionarsi a riprendere il controllo delle del rapporto e quindi trovare un nuovo punto di incontro nuove intese nuove situazioni che vi porteranno a ritrovare la passionalità e a sentire forte la necessità di avere un progetto in condivisione con il partner tra cui ci può essere anche il discorso figli casa tutto quello che manderà in espansione anche giove che sta transitando nel segno dei gemelli ed è tutto un wow anche per i single che faranno degli incontri entro il 17 che sono molto importanti che lasciano un segno ma sarete più che altro voi a lasciare il segno sugli altri e attorno alle giornate del 6 se c'è qualcuno che vi piace se avete già messo gli occhi su qualcuno se c'è qualcuno che gironzola beh rompete il ghiaccio perché avete la possibilità di ottenere un feedback molto positivo dopo il 17 incominciano un po le prove su strada per tutti i rapporti che nascono prima del 17 o che sono già nati prima del 17 già nel mese di maggio ma incomincia anche una fase dove magari il desiderio subirà un po più un calo un ridimensionamento non fatevi preoccupazione non preoccupatevi cambia il vostro rapporto con l'amore con cupido perché sentirete più che altro il bisogno di lavorare su di voi di prendervi cura di voi e quindi cambierete un po atteggiamento e in coppia dal 17 in avanti le responsabilità il lavoro le scadenze andranno a sottrarre tempo di qualità in coppia quindi cercate di ritagliarvi degli spazi solo vostri da condividere con il partner fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io vi auguro uno splendido mese stellare ciao parliamo del segno dei pesci o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale mi vedete così sorridente bene vi porto un sorriso nella vostra vita spero di portarlo perché questo è un momento un po delicato per i nostri pesci perché tutti quei pianeti di transito nel segno dei gemelli formano una prima quadratura importante un po come se doveste superare un primo ostacolo importante dal compleanno ma è anche un passaggio di trasformazione questo di metamorfosi dove i nostri pesci abbandonano il vecchio guscio per costruirne uno nuovo e la prima parte del mese di giugno è caratterizzata anche da queste forti frequenze che vi portano a stretto contatto con il lavoro la famiglia le responsabilità ma anche quelle fragilità da rinforzare e nella prima parte di questo mese io vedo un pesci da maneggiare un po con cura ma non abbiate paura perché tutte queste situazioni non faranno nient'altro che irrobustire la vostra corazza una corazza che molto presto vi porterà a scendere in campo con un atteggiamento completamente diverso e a ottenere finalmente riconoscimenti e visibilità e tanto è delicata o da maneggiare con cura o impazzita la prima parte del mese di giugno anche magari per notizie situazioni da mettere a posto problematiche da gestire per quanto riguarda il lavoro la casa le scadenze insomma tutto il cucuzzaro tanto sarà invece bella la seconda metà del mese perché tutti quei pianeti che vi stanno magari tormentando tra virgolette entreranno nel segno amico del cancro verso la fine del mese dal 17 di giugno venere e marte a braccetto escono dalla quadratura ed entrano nel segno del cancro il cancro rappresenta il punto più luminoso del vostro cielo e quindi rappresenta anche un po il palcoscenico i talenti che si stanno attivando tutte quelle cose che vi porteranno a ottenere dei riconoscimenti importanti e una nuova visibilità e questi pianeti tracciano un percorso per il sole che poi entrerà nel segno del cancro anche lui il giorno 20 di giugno quando si interrompe ufficialmente tutta quella fase un po insalita e sfidante che ha caratterizzato la prima metà del mese e lì arrivano delle conferme importantissime per voi si accende l'entusiasmo riscoprirete la vostra fiducia la vostra autostima e arrivano i feedback e delle conferme importantissime anche per quanto riguarda il privato e la parte connessa alla professione questo può essere un momento delicatino per tutti quei pesci che stanno gestendo una fase magari di trasloco di cambiamento a livello professionale non fatevi shakerare più di tanto soprattutto perché attorno alle giornate del 6 di giugno la luna diventerà nuova nel segno dei gemelli chiude quel portale che si è aperto il giorno 23 di maggio e quindi potreste dover gestire delle cose in quelle giornate che riguardano il passato la famiglia la casa ad esempio se siete alle prese con una compravendita le spese la burocrazia ecco tutto questo è un po il comune denominatore della prima parte non fatevi coinvolgere emotivamente o non fatevi condizionare da tutte queste cose perché poi tutte queste eventuali problematiche che si stanno creando nella vostra vita poi vi porteranno poi troverete sicuramente una soluzione nella seconda metà immaginatevi che in questa fase state estendendo le vostre radici nel terreno per radicarvi per ottenere una nuova stabilità fate fare questo lavoro alle radici dopodiché potete andare verso l'alto e fiorire e infatti poi fiorirete con tutta la vostra chioma proprio nella seconda metà del mese di giugno in avanti l'estate è molto bella e c'è la possibilità e c'è la possibilità attorno al 22 che possono arrivarvi delle proposte per quanto riguarda il lavoro o che verranno accolte le richieste che avete fatto se avete smosso delle cose nella prima parte del mese parliamo di rapporti e di relazioni perché il mese di giugno è un po sfidante anche per amore nella prima parte del mese e poi tutto prenderà di velocità e un assetto di volo completamente diverso nella prima parte del mese almeno fino al 17 se ci sono delle grosse problematiche nelle dinamiche di coppia o se ci sono magari anche delle situazioni a livello familiare che possono condizionare i rapporti o le relazioni si manifesteranno in tutto il loro splendore portando però i pesci a prendere delle decisioni o ad attuare delle contromisure quindi se in coppia siete infelici se non vi sentite realizzati se ci sono delle sfide in ambito professionale o connesse alla famiglia che interferiscono nelle dinamiche di coppia ecco che entreranno andranno tutte in manifestazione e lì il nostro pesci prenderà delle decisioni importanti là dove invece non ci sono problemi fino al 17 la famiglia il lavoro le responsabilità l'umore possono condizionare il rapporto ma ora più che mai avete bisogno di un supporto emotivo di ricevere un feedback se così non fosse dall'altra parte vedremo un pesci che vomiterà addosso delle cose al partner delle colpe che ha il partner e non trattiene più nulla sarà un pesci senza filtri anche perché va ricordato che marte il giorno 9 entra nel segno del toro questo vi aiuterà a lavorare molto intensamente a ricevere un po più di energia per la soluzione per gestire la prima fase del mese di giugno ma nella comunicazione non tratterete più niente non avrete più filtri e quindi rischiate di vomitare addosso tutto quello che pensate se dall'altra parte non riceverete un supporto almeno emotivo o addirittura anche logistico e organizzativo con il partner però poi dal 17 in avanti cambia tutto e quindi dal 17 si ritorna al dialogo si accende il luna park dei divertimenti voi sarete irresistibili se siete single ma anche se siete in coppia e quindi c'è una importantissima ripresa dei rapporti e delle relazioni da dopo il 17 relazioni che possono portarvi tenere delle delle conferme importanti da parte del partner dopo il 17 e il nostro pesci potrebbe ricevere delle delle conferme possono presentarsi delle opportunità da cogliere per chi è in coppia per quanto riguarda una convivenza una proposta importante incominciare magari a a sentire la necessità di allargare il nido di espanderlo e quindi perché no anche mettere anche l'idea di fare un figlio non non sarebbe male in questo in questo momento se avete questo desiderio e anche i single trarranno ottimi vantaggi ed è proprio ritrovare da dopo il 17 l'intesa con il partner una buona comunicazione l'autostima che crescerà in voi e quindi tutto si ripristina da dopo il 17 e anche i single trarranno enormi benefici da questa venere e l'estate sarà particolarmente caliente e feconda per i single dei pesci che si preparano proprio dal 17 in avanti a fare degli incontri che lasciano il segno o voi lascerete il segno sugli altri datevi la possibilità e il permesso di incontrare nuova gente ed è attorno al 22 del mese di giugno che si possono attivare queste conoscenze anche con pochissimo preavviso e che possono scombussolare temporaneamente i vostri piani fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento pollice in su se vi è piaciuto io auguro a tutti una splendida settimana stellare e ci vediamo al prossimo video ciao